Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani a Venafro. Ancora da espletare le ultime formalità e poi la firma del contratto. Ad annunciarlo l'assessore all'ambiente Dario Ottaviano che rivendica il lavoro compiuto dall'amministrazione di Palazzo Cimorelli per rapportare a compimento un iter atteso da tempo. Da anni il servizio è affidato in regime di prorogazio e per di più, stante la parziale copertura sul territorio comunale, l'attuale percentuale di raccolta differenziata vede la città agli ultimi posti tra i comuni molisani. Ad aggiudicarsi l'atteso bando da circa 8 milioni di euro della durata complessiva di sette anni, la ditta che ha operato fin qui, la Smaltimenti Sud, ha prevalso su due aziende provenienti da fuori regione e, così come previsto dal contratto, garantirà il servizio anche nel comune di Conca Casale. Stiamo aspettando solamente i tempi tecnici per far sì che ci sia la firma del contratto vero e proprio. Una volta esperito questo passaggio, presumibilmente, a quando ci possiamo aspettare l'attivazione del servizio? Primo aprile al massimo il primo maggio di quest'anno, quindi diciamo nel giro di 60 giorni dovrebbe partire. Il contratto avrà una durata settennale prorogabile per sei mesi al massimo, ma quali sono gli obiettivi che, come amministrazione civica, vi proponete di raggiungere con l'attivazione di questo nuovo servizio già dal primo anno? Ci siamo in effetti prefissati di raggiungere già dal primo anno il 75%, questo naturalmente facendo campagna di sensibilizzazione, istruendo i cittadini e naturalmente facendo sì che l'azienda che gestisce l'appalto su questa cosa sia l'attore principale per far sì che la cosa possa arrivare addirittura a raggiungere il 75%. Comunque, diciamo noi da questo punto di vista ci siamo cautelati proprio in fase di gara, di conseguenza è uno degli aspetti contrattuali il raggiungimento del 75%, se noi gli oneri comunque saranno a carico dell'azienda stessa. Intanto, in attesa di veder sparire con il nuovo servizio tali contenitori, Ottaviano torna a spronare gli incivili del cassonetto a conferire rifiuti ingombranti e quelli speciali non pericolosi presso l'isola ecologica comunale. A motivarli a comportamenti più virtuosi potrebbe forse contribuire l'attivazione, disposta ormai da quasi un anno dall'amministrazione civica, delle cosiddette fototrappole, con le conseguenti multe ai trasgressori. Se in taluna persone faranno il discorso che sarà a pagamento conferire all'isola ecologica perché non mi viene altro da pensare insomma come motivo per cui queste persone non vanno all'isola ecologica. Però devo dire allo stesso modo che l'isola ecologica è molto utilizzata dalla cittadinanza di Venafro perché quella è un'isola ecologica comunale, non è un'isola intercomunale, quindi la possono conferire solo ed esclusivamente i residenti nel comune di Venafro. Il fatto per cui viene chiesto il codice fiscale è proprio per accertarsi che le persone che vanno a conferire all'isola ecologica appartengono al comune di Venafro e quindi siano alla fine diciamo dei contribuenti del comune.